Avevamo annunciato che la procedura con cui questa giunta, questo centrodestra ha chiuso con una trattativa privata con un solo soggetto in violazione delle norme comunitarie, l'affidamento della gestione del teatro era completamente fuori dalle regole e così il TAR ha sanzionato pesantemente questa decisione politica e amministrativa che ha un effetto solo, oggi di lasciare il comune di Teramo senza la gestione della sua struttura culturale più importante ovvero del cineteatro comunale. Dopo 30 anni in cui sono stati fatti tanti pasticci, proroghe su proroghe, questa amministrazione è stata incapace di fare una gara per bene, di fare una gara nei tempi giusti e con le modalità giuste e di fatto ha creato l'ennesimo pasticcio a danno dei cittadini. Ora noi abbiamo convocato questa commissione di garanzia per chiedere con chiarezza cosa intende fare oggi l'amministrazione, come intende risolvere quello che è successo fino adesso, i danni che sono stati prodotti da questa sentenza alla gestione attuale e in secondo luogo capire come intende adesso procedere per l'affidamento della nuova gestione. Se fare un bando di gara vero, per bene, aperto, che sia aperto alla collettività, alla partecipazione di tutte le istanze culturali del territorio perché così come è stato fatto fino adesso assolutamente non va bene e non rende giustizia a questa struttura che è assolutamente importante per il nostro territorio. Noi chiederemo questo e chiederemo chi si assume la responsabilità per quello che è successo perché è una responsabilità grave sotto l'aspetto amministrativo ma anche e soprattutto politico perché tutto nasce dall'incapacità e dall'assenza di programmazione e gestione di questo centrodestra terramano che ormai sta lasciando solo ed esclusivamente disastri sulla collettività terramano. Per questo noi continuiamo a chiedere che si facciano da parte perché veramente i danni che sta producendo questo centrodestra sono superiori anche a qualsiasi ipotesi di commissariamento.